Oh, ho appena rotto 20 euro. Così. Ah, che bella giornata. Voglio proprio andare da qualche parte. Ecco dov'era. Oh, hi, oh, hi. Forse adesso funziona. Ma dov'era tutto questo tempo? Comunque volevo proprio provarlo e andare dalla becana per rimediare qualcosa. Allora, vai, 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 ti trasporto dalla becana. Perché non sono nella presa? Befana? Befana? Befana sei tu? No. E la Befana o no? No, è al 100% la Befana. Sì, secondo me è lei. Befana! Befana sei tu? Non so. Ma dai, non so che sei tu, Befana. Hai la stessa gonna. Va bene, sono già Befana. Lo sapevo che eri tu, Befana. Guarda, ho ritrovato la Haym al-A-Hay. Adesso posso trasportarmi anch'io. Ahai, ma hai! Oh, oh, magia! Sì, magia. E tu cosa fai qui? Sto riportando sotto il sole primavera. Ho una cosa, magica meravigliosa. Meglio dei tuoi trucchi magici. Oh, davvero? Fammi vedere. Befana, potresti cambiarti come eri prima? Cioè, è primavera, ci sono gli uccellini, così fai un po' paura. Oh, questo è facile. Così meglio. Guarda, ho 20 euro e una penna. Ho appena rotto 20 euro. Anche io ho questa penna. Guarda, ho 50 euro. È penna magica. Tommy, fai vedere! È una penna normale! Com'è possibile? Qua è una penna normale. Ma ho un'altra cosa. Pum! Una penna magica. Prendiamo 50 euro. Voilà! Anche il mio è un magnete. Però sono tanti. E guarda cosa posso fare. Il cadavro! Voilà! Puoi far vedere altre magie? Va bene. Abbiamo una moneta. Mettiamo sulla mano. Facciamo... E voilà! Non c'è niente. E come l'hai fatto? Una magia? Eh... Sì. Era una magia. Ma fammi vedere un trucco, che posso fare anch'io. Io so che li fai fare. Certo che posso. Dobbiamo avere tre cose. Lo scotch, che incola a due parti. E forbici. E mettiamo... Mettiamo... Mettiamo un pezzettino... Sulla mano. Così. Una monetina. Una mano. E facciamo, facciamo. Capito? Con la magia era un po' meglio. Fai vedere qualcos'altro? Va bene. Abbiamo due bicchierini. Uno per te. Tieni. Un normalissimo bicchiere. E adesso dobbiamo tirare dal bicchiere una forchetta. Così. Forchetta! Dove sei? Fai un poppo! Metti una forchetta! Voilà! E voilà! Ah! È così! Va bene! Più o meno! Ti mostrerò qualcos'altro. Guarda. Uno per te, uno per lì. Ok. Dobbiamo fare un nodo. Così. E adesso mettiamo dentro. Metto dentro. A me non funziona. Ma devi fare un buco prima. Così. Fai vedere ancora qualcosa. Guarda. Due chiavi. Una per te. Una per me. Resta. E una bottiglia. Prendi. E adesso mettiamo queste chiave in questa bottiglia. Non va. A me. Qua. Ehi, ma come? È una chiave magica, ovviamente. Guarda. La posso? Sì, certo. Me ne fai vedere un altro? Va bene. L'ultimo. Voilà. Apriamo. Prendiamo. Compriamo. What else? Come? Così? Ah. No. Befana, Befana. Guarda cosa è successo. Come? È finto. Iscrivetevi al nostro canale e mettete un like. E se volete vedere i tutorial degli altri shorts, ci saranno proprio adesso. E se volete vedere i tutoriali, ci saranno proprio 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 se volete vedere Sì, sì, sì. Sì, sì.